Ciao a tutti ragazzi, qua è Mantro60 Benvenuti in questo nuovo video Ragazzi Oggi ho comprato 3 bustine di cacciatori Adrenaline Ragazzi, adesso Io possè 3 bustine Già l'ho aperte Andiamo a vedere la prima bustina che ha aperte Io i giocatori già lo so e credo che ci stanno Forti Ragazzi, andiamo con la prima bustina Primo giocatore Andrea Bertolacci Seconda figurina Patrick Cutrone Aspetta Cutrone Terza figurina La carta Infinci Infincibile Aspetta La carta Infincibile Terza figurina Abbiamo Giorgio Chiellini Quarta figurina Giorgio Chiellini Quinta figurina Antonio Mirante L'idolo del Bologna Il portiere Terza Quarta Sesta figurina L'ultima figurina Ilicicic Josip Ilicic Nel Atalanta Ragazzi Abbiamo finito la prima bustina Adesso andiamo a vedere la seconda bustina Bustina Ragazzi Prima di far vedere la seconda bustina Vorrei salutare che Dano Cercillo Ragazzi Adesso incomincia Già il primo giocatore di questa bustina E' fortissimo E' una stella Caliducle in palito Seconda figurina Giuseppe Cuomo Del Cotrone Terza figurina Marco Sportiello Quarta figurina Quarta figurina Marco Ancanucci Della spalla Quinta figurina Andrea Consigli Il portierone Andrea Consigli Molto forte Ultima figurina Il muro d'acciaio Del Milan Ragazzi E' finita anche questa bustina Andiamo a vedere l'ultima Che è la terza bustina Ragazzi Se questo video arriverà Hai 10 like 10 Non ve li chiedo molti Domani farò un video Sempre su queste figurine Con 5 bustine Ragazzi Prima figurina di questa bustina E' Alexandro Seconda figurina di questa bustina Claudio Marchisio Idolo Idolo Terza figurina La coppia Battibile Pialic E' Chedira Terza figurina Munuz La Munuz Del Ceno Quarta figurina Quarta figurina Quinta figurina Regine E poi ragazzi Per ultima figurina Il top players Mauro Ica Ragazzi Anche questo video Si conclude qui Mi raccomando Lasciate 10 like E domani Vi porterò Un video Dove farò 5 bustine Di cacciatori Atene Mi raccomando Ciao a tutti Dal vostro Madure 360 Ciao a tutti